I gnoti si sono introdotti questa notte all'interno dell'ufficio Tributi del comune di Capaccio Pestum a fare la spiacevole scoperta ai dipendenti comunali, i quali giunti sul posto come ogni mattina hanno trovato l'ingresso dell'ufficio scassinato. Immediato l'arrivo dei carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, che hanno effettuato i rilievi del caso per verificare la presenza di tutti i faldoni conservati nell'ufficio. In caso di accertamento di furto si procederà al confronto con le versioni elettroniche e delle pratiche, tutte presenti nel database dell'ente.